TRIPO SR è un nuovo modello per la generazione di modelli 3D a partire da immagini 2D. Questo è il sito con l'annuncio e tutte le cose belle. La cosa bella di questo modello è che può essere fatto andare anche in locale perché è open source e è tutto pubblico. Qui ci sono esempi di input images e output images e qui invece si può far girare su Hugging Face. Quindi se andate su Hugging Face e nello spazio di Stability AI potete provare TRIPO SR. Io ho preso, perché in realtà io ho già registrato questo video, però non avevo premuto registra e quindi ho già fatto questa prova. Siccome a me piace D&D ho cercato una miniatura, questa nello specifico, e l'ho data a questo modello. Quindi input image, questo è l'input, process d image, perché lui fa il processing dell'immagine per togliere il background, e poi genera l'OBJ. Una volta che l'OBJ è stato generato, guardate che bellino, si può scaricare e si può eventualmente stampare, ma io non ho più la stampante 3D purtroppo e quindi non lo farò. Prima di vedere come si fa a girare in locale, guardiamo il paper. Questo è il paper di TRIPO SR, 4 marzo 2024. Vediamo com'è fatto questo modello. Quindi qui, Model Overview descrive il modello. Allora, TRIPO SR in generale ha un'architettura transformer, di cui abbiamo già parlato nel video di MidJu 10GPT, del meccanismo di attenzione, bla bla bla, se vi metto magari il link in descrizione, se vi interessa approfondire quell'argomento, ve lo guardate. Cosa fa questo modello? Abbiamo detto, prende un'immagine RGB e butta fuori una 3D representation of the objects. Ha tre componenti principali. Uno, un image encoder. Due, un image to triplane decoder. Tre, una triplane based neural radiance field. Abbiamo già accennato una volta degli encoder decoder. Che cosa sono gli encoder decoder? Sono delle reti che prendono dei dati, li comprimono trasformandoli in vettori in uno spazio latente, ovvero io ho un'immagine 2D, ad esempio. Posso trasformarla in vettori di 50 dimensioni. E quindi ho uno spazio di 50 dimensioni, invece che 2, che si chiama spazio latente, che è una rappresentazione delle feature dell'immagine. E poi il decoder ritrasforma questo spazio nell'immagine vera. Quindi prima la trasforma in spazio latente e poi la ricostruisce. Di solito negli autoencoder, encoder e decoder sono la stessa rete, invertita. Qui invece sono due reti diverse. L'image encoder è questo modello qua, Dino V1, che è un pre-trained vision transformer model. Che cosa fa? Come abbiamo detto, proietta l'immagine RGB in un set di vettori nello spazio latente. Questi vettori, si spera, che includono le feature necessarie per poi ricostruire l'immagine. Vengono però usati per ricostruire l'immagine invece in tre dimensioni. Da chi? Da questo image to triplane decoder. Che cosa fa? Prende la descrizione in spazio latente dell'immagine 2D e la trasforma in una triplane nerf representation. Nerf è un modello di rete neurale, triplane based neural radiance field, che, data la sua rappresentazione compressa, cerca di capire il colore, la posizione, la densità dei vari punti nello spazio 3D. Quindi anche questo è un po' un decoder, perché trasforma da vettore latente a modello 3D. Quindi c'è prima un encoding dell'immagine nello spazio latente, poi un decoder che trasforma lo spazio latente 2D in spazio latente 3D. E infine nerf, che prende questo spazio latente 3D e lo trasforma nell'OBJ, nell'immagine finale. Qui parla di un sacco di cose. Vabbè, che cosa fa questo modello in particolare? L'encoder dell'immagine è già ed in OV1. Il decoder del modello 3D è nerf. Quello che fanno loro è la trasformazione da spazio latente 2D a spazio latente 3D. E questo consists of a stack of transformer layers, each with a self-attention layer and a cross-attention layer. Quindi, come abbiamo detto anche nell'altro video, c'è un sistema per capire quanto ogni punto dell'immagine è importante rispetto agli altri, rispetto al contesto, per dare più importanza a quelli più importanti. Poi, se proseguite nel paper, ci sono tutte le formule, tutti i confronti con gli altri modelli, e qui c'è proprio un confronto di output, quindi la stessa immagine e l'output di diversi modelli, sia con texture sia sinza. Ora, come facciamo a far girare questa cosa in locale? Ci sono un po' di cose da fare. C'è da installare Python, c'è da installare CUDA, quindi la libreria per eseguire codice sulla GPU NVIDIA, se non avete NVIDIA non potete farlo, e poi installare Python according to your platform. Python, sì, PyTorch. Come facciamo a installare PyTorch? Dobbiamo scegliere il nostro sistema operativo, come package scegliete PIP, secondo me, linguaggio Python, e poi Compute Platform. Quindi, se avete installato l'ultima versione di CUDA Major 12, scegliete CUDA 12.1. Se avete la 11. qualsiasi cosa, scegliete 11.8. Se volete farvi male e metterci due ore a fare questa generazione, scegliete CPU e installate la versione che va anche solo con la CPU. Una volta che avete eseguito questo, quindi avete installato Torch, avete installato CUDA, avete stato tutto, bisogna fare il clone del repository, quindi git clone, questa roba qua, fate il clone del repository, ci entrate, una volta dentro fate PIP install, che è successo? Una volta dentro fate PIP install upgrade setup tools e PIP install-r requirements.txt Una volta che avete installato tutto, vi faccio vedere la mia finestra, ecco qua, dov'è? Qui? Su? Su? Ok. Una volta che avete installato tutto, potete eseguire il comando, quindi ad esempio io qui ho fatto Python run, gli ho dato l'url, l'url, sì, il path dell'immagine, quella che ho scaricato prima, e poi come output dir output. Voi lo fate partire, ah, era qua anche sopra, e allora la prima volta ci mette un bel po', perché deve scaricare 3-4 giga di modello, dei pesi. Dopodiché, vedete, io ho la 1060, quindi non è una scheda video recentissima, che ha messo 5 secondi a inizializzare il modello, un secondo a processare l'immagine, quindi togliere il background, 30 secondi a fare l'inferenza, e poi quasi un minuto a esportare la mesh, quindi a scrivere il file .obj. Una volta che avete finito l'inferenza, vi ritrovate nella cartella tripo SR output, se avete messo output come ho fatto io, vedete, trovate l'immagine elaborata, e trovate la mesh. Non c'è la texture, non ho trovato come far uscire anche la texture, ma sicuramente c'è un modo, perché da qui la texture si vede, quindi. E questo è tutto, provate, fatemi sapere nei commenti se riuscite a installare, io vi consiglio comunque di provarla su Agging Face, perché finché è disponibile lì, finché non c'è coda, se non avete altre cose da fare, non state lì a installare coda, a Pythor, c'è un sacco di roba che occupano giga, giga, giga e giga, e se non avete una bella scheda video, ci mette un botto. Agging Face, come avete visto, ci mette veramente 10 secondi, quindi tanto vale farlo lì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!